Che ne pensa il direttore sportivo Luca Leone delle Maglie? Peccato che non le posso indossare. Senti Luca, campionato difficilissimo naturalmente, mercato difficile per la Ternana perché devi cambiare molto per forza di cose. Questa complica un pochino il lavoro. Io sono sereno perché già so di avere una grande squadra per me. Rischiamo di dimenticarci quello che abbiamo fatto, quindi io ricordo ai ragazzi che loro sono già una grande squadra. Chi vorrà far parte di questa Ternana deve essere altrettanto forte come lo sono quelli che hanno conquistato questa Serie B sul campo. Che per me restano quelli più importanti. Chi dovrà arrivare dovrà scegliere la Ternana. Non solo dobbiamo scegliere noi i calciatori. Quindi io sono sereno perché già so di avere qualcosa di importante. Perché come ho detto prima, quello che abbiamo fatto deve essere un punto di partenza per noi e ci sono ancora tanti giocatori all'interno della Ternana che hanno ancora voglia di togliersi qualche sassolino. Hanno ancora quella rabbia di voler dimostrare che in questa categoria possono dare ancora qualcosa sia a questa squadra che per quello che è la loro carriera. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per poter fare qualcosa di importante. Quindi io sono abbastanza sereno. Poi ho una città forte, grande e bella alle spalle. Ho una società bella, forte e grande alle spalle. Non ho paura di niente. E due belle maglie, diciamo. Che fanno sempre loro.